ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al mio nuovo chiappone e non si tratta del solito longini idroconquest che ho acquistato ultimamente l'altro giorno con 41 mm di diametro cassa il suo bel calibro eta 28 92 la sua bella ghiera rossa che tanto fa chic diciamo così no no questo qua non mi riferisco a questo non ho preso un altro ho preso un altro orologio questo qua è un periodo veramente obrobrioso cioè sto comprando orologi ogni settimana qua bisogna darci una regolata no purtroppo la mia scimmiettina qua io spero che gli venga l'indigestione a forza di mangiare orologi perché non se ne può più vi devo dare veramente una regolata a proposito vi ricordo che tutte le storie della scimmietta io le prendo dal famosissimo libro cantico degli oranghi storie di ghiaccio fuoco e scimmie è un bellissimo libro che vi consiglio di leggere perché può fare una cultura ora detto questo parte gli scherzi ho comprato loro il rolex yacht master con il quadrante blu oh che bello che bello che bello che bello un par di scatoloni perché è stato un esborso non è differente ma come è nato questo discorso qua intanto perché perché era già da un po di tempo che a me lo yacht master mi piaceva cioè ha proprio iniziato piano piano a entrare nell'orecchio no per poi dopo diventare un chiodino fisso un chiodino fisso che però sempre detto ma vabbè c'è tempo prima viene un panerai no entro natale un panerai un bel panerai con un esborso relativamente basso alla mia portata mi faccio un bel panerai come per regalo di natale e lo yacht master si vedrà qual è il punto il punto è che quando poi dopo si vedrà intende dire che mi dovrò magari muovere in tutta italia a un prezzo che non so quanto a andare a chiedere il negozio per mettermi in lista tutte queste cose qua però tutto è rimandato poi cosa è successo che l'amico simone no mio caro amico simone mi ha telefonato e prontano ci vieni con me a vedere un ivc con proprio con questo tono di voce così piagnuncoloso effettente no e io dico sì va bene ci vengo andiamo il negozio è qua in zona due chilometri da casa mia andiamo fa piacere anche vedere il proprietario guardare gli orologi andiamo quando entriamo scopro che è la terza volta che ci andava lui cioè io pensavo andassimo lì per la prima volta no a vederlo a studiarlo no era già la terza volta e come quei che vanno lì annusano poi se ne vengono via il classico cliente rompi i scatoloni no è già lì e poi già che eravamo lì bello un ivc un pilot 46 mm di diametro cassa però quando lo prendi in mano come dice rocco sifredi e lo senti la qualità di ivc è veramente un bello orologio che però è ancora lì non l'ha ancora comprato e io già che ero lì ho detto mi fa vedere qualche orologio quello yacht master lì che è in vetrina e ha tirato fuori l'ha messo lì sulla sul bancone la scimietta è andata in catalessi ha sgranato gli occhi gli è venuta la bava alla bocca gli ho fatto anche un paio di massaggi cardiaci per farla riprendere e è entrato in testa quello orologio lì ho provato ad avanzare una scusa no ma perché io volevo prendere un panerai e lui ha tirato fuori il panerai da dietro il negozio eccolo lì puff fortunatamente quello o sfortunatamente quello era automatico con la data e del 2004 un po troppo vecchio 20 anni non faceva per me la cifra era che più abbordabile rispetto a quella del simpatico yacht master e quindi passato lì secondo piano e lì mi sono messo lì e la mia testa ha cominciato a fare i calcoli sui soldi dove prenderli come fare permuta non permuta se la permuta fai un bagno di sangue perché te lo scontano pochissimo qualsiasi orologio ad un certo punto ho pensato anche dare dietro l'explorer che insomma quello che mi avrebbe consentito di sborsare meno danaro poi alla fine ho venduto un paio d'orologi di quelli che non che c'ho lì che non mi interessa più di tanto ho raccattato tutto quello che potevo raccattare e giorno dopo sono tornato e l'ho preso l'ho preso ho pagato 300 euro più del prezzo di listino sono onesto dico la verità 300 euro di più perché ho ritenuto corretto giusto pagare questa sovracifra per averlo subito qua a portata di mano piuttosto che dover aspettare andare a mettermi in lista chiedere oppure muovermi addirittura di città in città con dei soldi in tasca la carta di credito muoverti fare il tragitto o insomma cose mie ho deciso di fare in questo modo pagato un pochino di più però ce l'ho avuto subito del 2022 e del 2022 la cosa assurda è che su ogni singolo a parte dell'orologio c'è una pellicola cioè non sono le pellicole di casa rolex che quelle te le tolgono appena lo vendono no il precedente proprietario ha comprato il kit di pellicole e le attaccate una per una ovunque sopra le anse sopra la ghiera di fianco sulle maglie sopra e di lato tutte le maglie la clasp è tutto pellicolato e protetto cosa che così da occhio nudo non le vedi le vedi avvicinando per bene e la cosa diciamo per ora le ho lasciate per ora le ho lasciate le toglierò col tempo o quando si staccano ho solamente tolto quella sul fondello perché è assurdo fondello acciaio inox 904 sul polso di un essere umano cosa vuoi che si graffi niente le altre non lasciate però devo dire che è assurdo però fa anche piacere quando uno acquista un qualcosa che è tutto pellicolato e sai che togliendole è esattamente nuovo come da quando è uscito dalla fabbrica insomma da questo punto di vista mi fa piacere poi io le toglierò piano piano le toglierò perché l'orologio lo voglio vivere un po come si deve ma aspetto ora qua nel video le vedrete quindi in ogni immagine ci sono le pellicole sopra che voi ci facciate caso o meno ci sono quindi diciamo che la luminosità di tutto l'orologio viene un po attenuata dalle dalle pellicole presenti c'è qualcos'altro da dire no sì che lo yacht master ecco fu introdotto nel 1992 come nuova famiglia della casa rolex cioè è un po raro che rolex introduce nuove famiglie e si dice si narra che il designer la scelta dei materiali fu fatta per fare un restyling del submarino cioè questo qua avrebbe dovuto essere il nuovo submarino poi venne abortita come l'idea venne eliminata e venne introdotto poi come una nuova famiglia quindi perché mi piace a me questo qua perché è uno un il submarino è una specie di tool watch è spigoloso no è poi visto rivisto questo qua è quasi sconosciuto a la cassa che è più simile a quella di un daytona o di un day just tutta stondata arrotondata compatta è veramente un altro sapore al pulso capito e quindi lo preferisco rispetto al submarino perché non me ne vogliate mai visto rivisto stravisto stracopiato come design da tutti può essere anche positivo per voi per me no mentre lo yacht master copiato stracopiato no è lì a parte fa la sua vita mio menetto al pulso e da un'altra sensazione al polso da un'altra sensazione differente va bene adesso vi lascio la panoramica e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali perché anche in questo caso ci sono delle considerazioni finali da fare come al solito non posso esimermi dal valutare le dimensioni riscontrate tramite misurazione diametro cassa 40 mm spessore 11.5 lag to lag 47.5 mm e interasseanza da 20 mm misure che ci restituiscono un orologio relativamente sottile filante e ben proporzionato anche se i 40 mm sono misurati alla ghiera mentre la cassa sottostante è impossibile da misurare questo perché non esiste un punto preciso sul quale prendere il diametro corretto e soprattutto perché vista in sezione tende ad allargarsi verso il basso o per meglio dire rastremare verso l'alto una linea curva e panciuta che gli consente di appoggiarsi sul polso in maniera elegante si tratta quindi di uno di quegli orologi che rientra nella tipologia ghiera più contenuta rispetto alla cassa fattore che aumenta l'equilibrio generale ma che può rischiare di compromettere la funzionalità della rotazione non è questo il caso in quanto il grip è ottimo e la rotazione docile con poca resistenza forse anche troppo poca da segnalare che è bidirezionale in quanto non essendo un diver ha semplicemente il compito di tener conto di intervalli di tempo generici e non di vitale importanza così come la leggibilità non è delle migliori numeri lucidi su fondo sabbiato non rappresentano certo l'esempio di perfetto tool watch ed infatti non vuole esserlo lo dimostra la superflua opulenta e sfarzosa scelta di utilizzare un inserto realizzato integralmente in platino nobile materia prima che però ha il solo scopo di impreziosire l'orologio ed avvicinarlo maggiormente ad un gioiello da pulso ed è proprio questo il fulcro dello yacht master per sonificare la versione più raffinata del classico submariner e per farlo si affida anche alle forme laddove il design cassa diventa più avvolgente e sinuoso con anse tondeggianti che curvano verso il basso e che si raccordano naturalmente andando poi a formare le spallette di protezione senza alcuna forzatura stilistica apparente il tutto perfettamente lucidato a specchio lasciando all'effetto sabbiato dell'inserto il compito di creare l'unico effetto di contrasto presente tutto questo connubio di acciaio e platino viene definito da rolex come rolesium e a parer mio nonostante quanto detto prima a riguardo della sfarzosità rappresenta una soluzione tutto sommato sobria sobria perché all'apparenza il colore dell'acciaio e del platino è molto simile e ciò gli consente di passare al quanto inosservato senza mostrarsi eccessivamente presente al polso voglio qui aprire una parentesi a riguardo dei metalli per sottolineare che rolex è una delle poche che ha una fonderia in house tramite la quale riesce a produrre in proprio tutti i componenti tecnicamente parlando ci troviamo di fronte ad una cassa oyster impermeabile a 100 metri grazie al fondello avvitato integralmente alla cassa e alla corona triple lock questa è così chiamata per chi prevede tramite l'utilizzo di guarnizioni multiple ben tre zone di impermeabilità all'interno del tubo corona ed è riconoscibile grazie ai tre puntini presenti sulla faccia esterna non sono invece presenti segni come la tradizione sul fondello cieco semplice piano essenziale con la tipica sagomatura cremaliera per l'innesto della chiave di serraggio al di sotto batte il calibro 32 35 il più recente movimento di casa rolex certificato come cronometro svizzero dal cosque viene poi testato una seconda volta da rolex dopo essere stato inserito nella cassa questo per garantire che nell'uso quotidiano soddisfi i criteri di precisione della casa che sono più esigenti di quelli dei cosque ossia più 2 meno 2 secondi al giorno tecnicamente parlando presenta lo scappamento cron energy realizzato in nickel fosforo e quindi insensibile ai campi magnetici vede anche la ruota traforata in modo da alleggerire il peso e ridurne l'inerzia c'è poi la spirale paracrom realizzata in una lega di niobbio zirconio e ossigeno e che viene fusa in un vuoto estremamente spinto la troviamo inserita in un bilanciere a regolazione inerziale senza quindi la classica racchetta di settaggio insomma un meccanismo realizzato totalmente in auso con numerosi brevetti depositati dalla casa non sarà forse non plus ultra in termini di finiture e bellezza architettonica ma è sicuramente uno tra i più precisi ed affidabili in commercio a proposito lo scarto giornaliero da me riscontrato è pari a più un secondo al giorno ma usciamo dal cuore dell'orologio per osservarne il volto per farlo occorre passare attraverso il vetro zaffero e qui c'è una curiosità nei rolex da una ventina d'anni a questa parte è presente una coroncina incisa al laser nel vetro che ne certifica l'originalità si trova ad ore 6 circa ma se non la trovate al primo colpo non spaventatevi è alquanto difficile trovarla ad occhio nudo occorre la giusta inclinazione ed un certo ingrandimento se invece è troppo marcata e la si scorge anche dalle fotografie beh allora è un falso allo stesso modo un altro segno distintivo rappresentato dal ring interno posto tra vetro e quadrante qui vi sono riportate delle incisioni quali la scritta rolex ripetuta più volte e soprattutto il seriale dell'orologio che deve corrispondere con quello presente sulla card una volta fatte queste doverose precisazioni possiamo dare finalmente uno sguardo al quadrante il classico design con indice a bicchierino che da sempre accompagna lo stile della casa accoppiati alle classiche sfere mercedes quanto di più scontato possa esistere agli occhi di un appassionato del 2024 scontato perché è ciò che ci si aspetta da rolex ma non di certo banale specie se pensiamo che è un design che da decenni è il marchio di fabbrica di questi modelli sportivi submariner e gmt compresi il tuffo nell'insolito lo si ottiene invece a livello di accostamenti cromatici in quanto il blu soleil del fondo quadrante è un qualcosa di poco visto sugli orologi marini di casa rolex specie in questa tonalità particolare che risponde differentemente a seconda dell'inclinazione rispetto alla luce in talune situazioni appare quasi nero mentre in altre riesce ad apparire azzurro metallizzato ma è sicuramente la globalità dell'insieme a risultare cromaticamente interessante in quanto l'assenza di un inserto ghiera colorato sposta tutta l'attenzione sul dial e sull'ancor più insolita sfera dei secondi rossa facendolo così apparire come un quadrante vivo luminoso molto sportivo e quasi giocoso uno spirito dinamico che va a mitigare la austerità solenne della cassa lucida e dell'inserto in platino insomma ciò che ne esce un orologio che partiva come modello di borghese compitezza e che invece si rivela essere volitivo energico e sportivo adatto anche alla vita urbana non si può poi non menzionare la lente magnificatrice croce e delizia degli appassionati personalmente la ritengo un segno distintivo della casa e non mi arreca alcun fastidio anzi è una di quelle rare occasioni nelle quali riesco a comprendere che giorno è così come comprensibile risulta la lettura dell'orario la leggibilità eccellente sia di giorno che in assenza di luce laddove il chroma light consente agli accenti di illuminarsi correttamente eccetto per la ghiera che in questa occasione mette mostra tutta la sua inutilità non rimane che parlare del bracciale il classico oyster a tre links indipendenti con maglia centrale lucida e segmenti esterni leggermente spazzolati nulla da eccepire sulla qualità finali perfettamente adesi alla cassa senza alcun minimo gioco maglie tenute in sede dai perni a vite cerniera interna di adeguato spessore e chiusura scatoletta con leveraggio ammortizzato occorre poi aggiungere il metodo di regolazione fine della lunghezza in primi si è presente il sistema di allungamento easy link che consente di variare la lunghezza di mezza maglia inoltre all'interno della clasp sono presenti tre sedi ricavate sulle pareti che consentono di giocare ulteriormente sulla regolazione occorre spostare la spring bar con un attrezzo e ogni spostamento corrisponde circa ad un terzo di maglia possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali ah i punti deboli easy link noi abbiamo parlato dell'easy link ci sono i punti deboli anche questi orologiaci qua easy link bella comoda no però io voglio dire questo qua è un orologio tra i professionali è un orologio tra quelli sportivi perché perché dobbiamo utilizzare l'easy link piuttosto che una chiusura ingegnerizzata per con quello che costa con quello che vuole rappresentare uno yacht master un rolex dovrebbe avere la glide lock come si chiama secondo me e invece c'è la easy link come c'erano la easy link cioè la maglia che fa così anche il mio digest o l'explorer però io secondo me non sono orologio così una chiusura ingegnerizzata anche di altro tipo sarebbe stata migliore altro punto debole la ghiera ma cosa serve la ghiera in platino che non si legge è inutile non si legge la si legge sì solamente non è una ghiera ogni tempo come si direbbe in tema militare diurna la vedi di giorno al sole i numeri li vedi puoi calcolare i tempi no i tempi tra uno sprizzo e l'altro cosa ci calcoli bidirezionale non è professionale in questo senso non vuole esserlo d'altronde va bene la ghiera è un altro punto debole poi è lucido allora il bello di questo orologio è che è veramente è veramente luminoso al polso è luminoso cicchettoso opulento fa la sua figura al polso e tutto questo pregio è dato dal fatto che è tutto lucido è tutto lucido ma questa sua bellezza questo suo punto forte diventa un punto debole nel momento in cui si graffia facilmente anche solo a guardarlo quindi si rischia di perdere tutta questa bellezza nel giro di poco a questo punto comprendo perché il proprietario di prima ci ha messo tutte queste pellicole perché era ossessionato dal fatto che potesse perdere la sua bellezza e ha voluto mantenerla intatta mettendoci queste preservativate sopra però attenzione insomma è uno di quegli orologi da utilizzare se io dico utilizzate e utilizzate gli orologi questo quali certo andarci sulla spiaggia non perché non possa fare il bagno non può fare ma i graffietti micro graffi della sabbia qua sono letali secondo me è veramente è veramente un peccato però è che il suo bello a proposito di spagna di spiaggia e bagno un altro punto debole è che è 100 metri uno dice il submariner è 300 e sto qua è 100 metri e qua nasce un dubbio nel senso che avete visto che c'è la corona triple lock cioè con tutte le guarnizioni tre camere stagne no esattamente quella del submariner è quella mentre per esempio sul dayjust e sull explorer c'ho il twin lock con due camere stagne e sono 100 metri qualcuno mi ha detto ora io ve lo riporto come se me l'avessi detto mio cugino con due g qualcuno mi ha detto che un orologiaio gli ha detto che smontandolo la struttura è la stessa del submariner è che secondo lui i 100 metri li hanno messi semplicemente per marketing per non far concorrenza al submariner stesso quando in realtà potrebbe tranquillamente reggere 300 metri questo è quello che mi hanno detto io sinceramente non fatico a crederlo perché voglio dire il triple lock e la corona e tutto il resto sarà molto simile se non uguale quindi potrebbe essere solamente un fattore di marketing poi il resto non punti positivi non ce n'è cioè le linee richiamano quelle del submariner ma al polso è tutta un'esperienza completamente differente ha una resa più armoniosa dolce è meno spigoloso no è un orologio che non vuole essere come il submariner tool watch tra virgolette perché poi nessuno che ha il submariner lo usa come tool watch questo qua però è esplicitamente mirato a colore quali vogliono avere un orologio simile allo al submariner però da utilizzare in condizioni meno gravose che meno gravose sul ponte della mia varca da 400 metri me ne sto sopra lì con lo yacht master oppure vado a fare l'aperitivo sul lungomare così è però a me è piaciuto mi piace proprio per le forme proprio per le forme per la sua ghiera in platino per la sua luminosità e sono contento diciamo che ho fatto un acquisto un po' i submariner quelli lì a bene adesso contento ragazzi io vi ho detto tutto vi ho spiegato il come il perché l'ho preso ora basta ora oggi basta i ragazzi basta adesso voglio spendere tutti i miei soldi nei lupanari e se non sapete cosa sono i lupanari andate su google e cercate lupanari con la r di roma mi raccomando sono un po raffreddato abbiate pazienza ora io devo ritirarmi un attimino per uccidere la scimmietta in modo che non interferisca più nei miei business perché altrimenti vado ho fallito io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love